bene amici si siamo sempre in vacanza che bello tra un bagno e l'altro tra una cena un pranzo una colazione con dei fantastici cornetti o anche un po più di tempo per provare le beta che non avevo ancora avuto modo di provare e dopo aver visto la beta di android ecco la beta di ios 10 la prima grossa novità è che quando prendiamo in mano il telefono vedete si accende possiamo vedere notifiche e senza cliccare basta tenere appoggiato il dito si sblocca anche il telefono per fare cosa per andare interagire con notifiche nel caso ce ne fossero e per andare a visualizzare questa schermata che è una schermata un po di riassunto di news meteo eventi insomma widget ripensati secondo me in maniera molto più intelligente possiamo già dalla schermata home andare a interagire con questi widget per esempio vedere vedere il meteo e poi cliccando ovviamente come al solito si entra nel menu apple ha puntato tantissimo nella presentazione sull'applicazione messaggi perché perché è veramente diventata più interattiva purtroppo rimane il grosso limite di poter usufruire di questa funzionalità solamente tra iphone ed iphone e vi faccio vedere cosa si può fare con i message prima di tutto si può scrivere normalmente ovviamente oppure cliccando qua si può interagire con le fotografie si può scattare direttamente qua una foto vedete possiamo scattarla e inviarla oppure ovviamente commentarla oppure andare a scegliere dal rullino altre foto e inviarle ma non è tutto qua perché possiamo fare altre cose per esempio con questa funzione possiamo disegnare qualcosa possiamo anche far diventare grande il pannello per disegnare meglio toccare con due dita per mandare un bacio trascinare e tutte queste cose possono essere fatte anche sui video mentre si stanno girando vi faccio vedere un esempio se io faccio questa cosa qua ok clicco sul video vedete diventa grande io inizio a registrare e mentre registro posso scrivere qua sullo schermo e verrà inviata una clip un video interattivo con proprio quello che abbiamo fatto e anche con l'audio quindi una cosa molto simpatica oltre a questo ci sono delle funzionalità che adesso non sono ancora attive io ho la beta 3 di iOS che è stata appena rilasciata verso settembre ottobre quando arriverà anche il nuovo iPhone arriverà ovviamente anche il nuovo iOS 10 in versione definitiva ma vedete si potrà interagire con le applicazioni che sfrutteranno le API di Apple per poter essere integrati in messaggi mandare le immagini oppure in questo caso mandare la musica che condividere la musica che stiamo ascoltando ovvio adesso funzionano solo queste applicazioni di Apple quindi immagine e musica ma quando gli sviluppatori appunto sfrutteranno le API si potrà anche fare qualcos'altro tastiera bilingue quindi oltre al ciao Andrea ok possiamo anche scrivere cose in inglese e vedete non ci sono problemi non ci vengono corrette o meglio se scriviamo bitch sbagliato proviamo a scrivere così vedete la correzione avviene sia in italiano che in inglese torniamo indietro andiamo a vedere le altre novità di questo iOS 10 applicazione casa finalmente un hub domotico che va a riunire tutte quelle applicazioni che già ci sono per la domotica che funzionano con con Apple la ricerca dei accessori vedete ovviamente qua non ne ho ma sarà praticamente automatica e ci sarà la Apple TV vedete qua che farà un po' da hub da cuore in casa un hub praticamente sempre acceso andiamo a vedere l'altra novità sulle mappe cambia che sarà la possibilità di andare anche a cercare dei luoghi quindi una interazione più approfondita grazie anche agli accordi che ha fatto Apple con altri sistemi ovviamente le mappe saranno sempre basate su TomTom anche per quanto riguarda il traffico vedete qua ci dà delle indicazioni sui sui ristoranti consigliati e vedete quante app vengono integrate TripAdvisor la ricerca su Booking Foursquare insomma per esempio se entriamo in questo ristorante che non so dove assolutamente dove sia vedete possiamo telefonare possiamo navigare dov'è che è in Germania va beh diciamo che non è proprio vicinissimo ci sono le indicazioni per andare in auto 11 ore anche no e le recensioni degli utenti oltre al fatto di poter condividere vedete la posizione con con altre persone anche la navigazione il motore di ricerca sarà più più intelligente e soprattutto mettiamo una via qualsiasi via Torino 5 vedete navigazione a piedi trasporti o altri servizi perché anche in mappe altre applicazioni potranno essere integrate vedete adesso io non ho altre applicazioni che possono interagire vedete ma anche perché non solo io ma iOS 10 non è ancora stato rilasciato quindi non ci sono ancora le applicazioni aggiornate per questo sistema operativo ma vedete se io clicco qua mi apre tutte le applicazioni che ho per il viaggio e mi dà anche dei suggerimenti sullo store per altre applicazioni che vi possono servire a questo scopo la ricerca globale è stata decisamente migliorata guardate se io faccio così e scrivo qualcosa per esempio Kia ok prima di tutto ho i contatti e sui contatti ho la possibilità subito di mandare un messaggio o di chiamare e se clicco vedete mi dà altre possibilità mandare un video un email se ci fosse un email nel nel contatto condividere aggiungere preferiti insomma ricerca migliorata e ovviamente fa una ricerca in tutte le applicazioni diciamo che la ricerca è sempre stato un po' il punto forte di iOS e a me è una funzione che un po' in Android questa ricerca globale manca andiamo a vedere l'applicazione foto perché ci sono novità anche qua quali sono le novità a parte la mia faccia un po' da stupido qua in vacanza è questo l'album dei ricordi viene generata automaticamente una clip se clicco qua con in cui vengono diciamo raggruppate le fotografie di un determinato momento scattate in un determinato giorno in un determinato luogo e ci viene riproposta una clip che poi ovviamente possiamo tranquillamente condividere questa funzione mi ricordo un po' quella di HTC che fu la prima a introdurre una funzionalità del genere in più sempre in foto c'è l'archiviazione intelligente che riesce a leggere le fotografie e a diciamo riconoscere scene e anche espressioni del volto riesce a riconoscere fino a 7 espressioni del volto così che noi quando andiamo a fare la ricerca possiamo anche cercare non so spiaggia fiore faccia sorridente e ci dovrebbero uscire le foto relative alla nostra ricerca anche il 3d touch viene migliorato perché abbiamo più opzioni per esempio nel calendario possiamo vedere i prossimi eventi per esempio anche whatsapp si è aggiornato con nuove funzionalità del 3d touch ma la cosa importante e un po' diversa è che se noi clicchiamo 3d touch su un'applicazione che non è predisposta vedete possiamo condividere l'applicazione con chi vogliamo e come vogliamo molto android style il nuovo sistema delle notifiche meno male perché quando si copiano cose che funzionano bene sono sempre contento vedete si abbassa la tendina e si accede subito le notifiche per i widget che anche qua vengono migliorati come abbiamo visto prima nella home page bisogna fare invece uno swipe a destra sì sì molto più comodo così altri piccoli miglioramenti per quanto riguarda l'applicazione musica che cambia fondamentalmente solamente il vestito non ci sono grandi grandi differenze ma ho trovato una grande differenza usando questi tre o quattro giorni qua al mare nei messaggi perché perché viene migliorata tantissimo l'aggregazione dei messaggi quando andiamo a leggere un messaggio concatenato e per esempio lo possiamo fare qua ve lo faccio vedere adesso per privacy questa schermata sarà opuscata spero riusciate a capire possiamo prima di tutto vedere tutti i messaggi concatenati ma questo si potrà fare anche prima ma entrando in un messaggio vediamo tutti i messaggi prima e dopo guardate qua vedete visti come delle finestrelle e possiamo andare a rispondere a un messaggio in particolare anche in mezzo facendo uno swipe verso sinistra vedete cioè rispondi, contrassegna oppure elimina in un messaggio in mezzo alla conversazione ovviamente rimane Siri ma anche qua API aggiornate quindi anche le applicazioni di terze parti potranno usare il motore vocale di Apple in più una cosa interessante è che le applicazioni di sistema per esempio guardate qua contatti possono essere disinstallate contatti, mappe, facetime, questo porta a due vantaggi il primo è che per esempio se usiamo Google Maps possiamo disinstallare mappe se non usiamo avere una interfaccia più pulita ma il secondo vantaggio più importante è che nell'App Store troveremo queste applicazioni che potranno essere aggiornati indipendentemente dal sistema operativo cosa che prima non poteva accadere altra cosa che ho trovato simpatica qua nell'orologio c'è la funzione sonno vedete gli dobbiamo dire a che ora vorremmo svegliarti allora a che ora vorrei svegliarmi metto alle 11 perché vorrei svegliarmi sempre alle 11 quando vogliamo disattivare l'avviso, quante ore di sonno abbiamo bisogno, quando vogliamo impostare l'avviso perché lui ci avviserà poco prima di andare a letto o in base all'impostazione che abbiamo dato e poi il tono di sveglia e vedete lui grazie ai braccialetti perché andrà a prendere i dati da salute oppure grazie anche al sensore integrato se useremo lui come sensore per il sonno ci dirà come abbiamo dormito, quanto abbiamo dormito, insomma devo dire una applicazione abbastanza simpatica il Neo è che dobbiamo tenere l'iPhone dove nel letto sopra il materasso con il rischio di schiacciarlo farlo cadere vabbè, il rischio più grande secondo me è litigare con la moglie l'ultima funzione che voglio farvi vedere è questa, quando andiamo a accendere soprattutto a spegnere il telefono c'è il feedback della vibrazione il telefono fa un toc toc, sì sarà una stupidata, ma a me queste cosettine fanno impazzire vabbè poi sotto come motore privacy eccetera eccetera ci sono altre novità su questo iOS 10 ma faremo la prova quando uscirà il nuovo iPhone ma adesso andiamo a vedere il watch OS 3 Beta 3 allora prima di tutto vabbè ragazzi guardate che bella questa watch face sì ok io sono minima, l'architetto, ho le pepe mentali ma questa watch face a me piace tantissimo ma la grandissima novità è questa si perde la corona abbastanza inutile dei contatti e si va a guadagnare la dock anche sull'orologio vedete cosa vuol dire questo? vuol dire che cliccando questo pulsante andiamo velocemente alle applicazioni o che sono aperte oppure che usiamo di più come facciamo ad aggiungere o togliere un'applicazione sulla dock? molto semplice, per toglierla basta fare uno swipe verso l'alto così vedete rimuovi per aggiungerla beh andiamo nelle applicazioni cliccando qua qua ci sono tutte le varie applicazioni, entriamo nell'applicazione che più ci interessa clicchiamo sulla dock, l'applicazione diventerà piccolina e qua esce l'opzione mantieni nella dock le altre novità fondamentali sono due swipe in basso per accedere alle notifiche e swipe in alto per andare a vedere tutto il pannello di controllo anche qua se entriamo nell'applicazione messaggio ovviamente viene un po' replicato quello che succede su iPhone quindi anche qua la possibilità di andare a mandare baci, a scrivere sul display eccetera eccetera può essere una cosa abbastanza simpatica e poi l'ultima cosa, l'ultima diciamo novità di rilievo che volevo farvi vedere è questa l'applicazione respiro che sembra una banalità in realtà ci dà dei feedback se stiamo respirando male o comunque ogni tanto ci dà un toc toc e ci consiglia di seguire determinate istruzioni per andare a migliorare la nostra respirazione per esempio vedete adesso ci dice inspira può espire tra l'altro c'è il solito feedback tra l'altro vedete se accendono dietro i led per leggere il battito per capire la nostra respirazione ovviamente adesso sta impazzendo perché non ce l'ho al polso ma può essere una cosa carina Apple Watch che niente secondo me con questi miglioramenti devo dire mi è piaciuto io non l'ho usato l'ho usato circa un paio di giorni rimane la criticità dovevo caricare tutte le sere vabbè però devo dire che mi ha convinto soprattutto una cosa che mi piace tantissimo di Apple Watch è quel feedback della vibrazione quel toc toc che nessun Android Wear riesce a riprodurre insomma queste le macro novità dei nuovi sistemi operativi in beta di Apple io non vedo l'ora di settembre ottobre per il nuovo iPhone ciao ciao